In vigore l'ordinanza scattate le multe. Palazzo Chiericati, edificio storico costruito dal palladio, off limits a chi bivacca sui suoi gradini e i vigili non transigono. Quattro i giovani che si sono visti a pioppare la sanzione da 50 euro. Azione troppo dura? Era meglio un avviso bonario? Il sindaco Rucco che ha fortemente voluto l'ordinanza pur dispiaciuto per le multe è chiaro. Il museo Chiericati è palazzo monumentale, è un monumento palladiano ed è giusto che venga rispettato. Purtroppo ci sono delle regole e vanno rispettate. Se non partiamo da questo principio la società diventa incivile al posto di essere civile. Quindi le regole sono chiare, i cartelli ci sono, ci sono le panchine alternative per sedersi e quindi si possono tranquillamente riposare sulle panchine che abbiamo anche rafforzato nel numero. La linea dura intrapresa dall'amministrazione Rucco in piazza Matteotti piace a negozianti, residenti e vicentini che approvano. La cosa più importante e rassicurante è il fatto che il comune finalmente si dimostra presente. Io mi sento tranquillo, mi sento più sereno, al di là poi delle modalità in cui il comune intende sanzionare le persone che bivaccano. Molto d'accordo. Ha sentito che hanno fatto già quattro multe dei ragazzetti? Fatto bene, fatto bene. Io credo che abbiano fatto una cosa giusta perché vedere questi ragazzi lì proprio in mostra non è che mi piaceva. Insomma io passo spesso di qui e non mi piaceva. Sono d'accordo col sindaco. Una bella cosa perché quelle rare volte che parcheggio qui ho sempre paura, poi soprattutto di sera, quindi cerco di evitarlo. Per cui credo che sia una cosa giusta. Queste molte ci stanno. Ci stanno e bisogna continuare con il pugno duro perché però dico oltre che alla punizione bisognerebbe che nelle scuole si facessero un po' carico di dire che questo patrimonio non è del comune, è nostro. Salvaguardiamolo.